Si sono trovati a Villa di Tirano, è ancora da capire se si sono dati appuntamento o se l'incontro è stato casuale. Probabilmente è partito qualche sfottò, quindi sono passati alle vie di fatto. Ne è nata così una maxirissa tra gli ultradicomo e Sampdoria. Domenica infatti le due tifoserie erano in Valtellina per assistere ai ritiri dei club di riferimento i Liguri a Livigno e l'Ariani a Bormio. Verso sera si sono trovati a Villa di Tirano e poco dopo le 20.30 è scattata la rissa che ha coinvolto almeno una ventina di persone. L'episodio è durato qualche minuto, nel frattempo un presente ha chiamato i carabinieri che sono giunti dalla stazione di Tirano poco dopo, ma intanto le due tifoserie si erano già disperse. È stata mobilitata anche la REU, l'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, che ha inviato un'ambulanza dalla Croce Rossa da Sondrio in codice giallo, ma non si sono registrati feriti a causa del fuggi-fuggi dei coinvolti alla rissa. Le due tifoserie comunque erano reduci da una giornata che in teoria sarebbe dovuta essere di festa. Entrambi i club hanno giocato in amichevole vincendo per 7-0, i Doriani di Andrapirlo contro la rappresentativa valtellinese composta da giocatori provenienti da formazione della provincia, mentre i Comaschi contro la rappresentativa del Valtolario.